In scena al Teatro Coccia il Goma Lambras Quintettina Ida, tutta d'un fiato. Come non l'avete mai vista, sabato 17 febbraio alle 21 e domenica 18 alle 16. 14 brani, arrangiati da Marco Pierobon, saranno arrangiati per Quintetto d'Archi con Francesco Gibellini, Aida, Nilo Caracristi, Radames, Stefano Ammanati, Il Faraone, Marco Pierobon Amneris e Gianluca Scipioni. Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Autosalone Tedeschi, concessionari a Suzuki per il VCO, a piedi mulera.